Ciao sono Duke, è arrivato il momento di estrarre i vincitori del concorso andiamo qui su random.org e generiamo un numero a caso mi da il 196 ora torno qua e vado a vedere nella pagina dove è contenuto il messaggio 196 se invece di essere un messaggio del concorso è un messaggio per la recensione di Youtube estraiamo un altro numero adesso ci arrivo ed eccoci qua 181, era 196 eccolo qui Legend Yoshi che ha scritto un papiro allucinante 100 motivi per farmi vincere ti voglio bene, mi vuoi bene aspetta controlliamo prima se questo è il 181 182, 183, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96 il 196 quindi il primo vincitore è X Legend Yoshi che ha scritto davvero un papiro allucinante è una cosa assurda è una cosa assurda quanto ha scritto alcuni dei motivi sono si dai, forza dai perché ora imbroglio che ovviamente io non avevo aperto tutti i messaggi del concorso perché avevo detto che potevate scrivere quello che volevate nel senso che non era importante non nel senso che serviva per vincere comunque niente qua il primo vincitore è Legend Yoshi gli scriviamo qualcosa anzi si dai scrivo subito a installare un altro subito che è meglio il 330 adesso devo andare alla pagina 330 però 305 25 321 321 322 23 24 25 26 27 28 29 30 era 330 vero? vediamo, controlliamo si, 330 quindi era questo Simo Tutorial il secondo vincitore è Simo Tutorial che mi fa i complimenti per i 5.000 iscritti questo è il suo messaggio per partecipare al concorso e mi lascia anche un video e quindi i due vincitori sono Simo Tutorial e il nome di prima che me lo sono già dimenticato però vabbè immagino li avrò messi in sovraimpressione con una scritta quindi fate finta che io me lo sia ricordato questi sono i due vincitori mi dispiace ovviamente per tutti gli altri che non hanno vinto però c'erano due in premio non potevano vincere in di più insomma ricordo ai due che hanno vinto che dovranno rispondere al messaggio che gli ho inviato scrivendomi quale gioco vogliono se vogliono terrare un altro gioco di uguale valore su Steam devono mandarmi anche il loro account di Steam il loro nome insomma su Steam se invece vogliono Minecraft gli manderò io il codice premium quindi però sono... è finito è finita quale stazione volevo dire qualcos'altro che ora non mi ricordo vediamo... ah sì volevo dire che per le recensioni in molti mi hanno mandato dei messaggi incompleti senza seguire quello che avevo scritto sul blog e che avevo detto anche nel video quindi mi dispiace ma per loro sono stati eliminati in partenza e poi che alla fine sono molti di più quelli che mi hanno... che mi hanno mandato una richiesta di quelli che io potrò recensire davvero non mi aspettavo una partecipazione così grande e quindi niente purtroppo la selezione sarà abbastanza severa perché non posso recensire mille persone e poi niente questo è tutto quindi vi ringrazio spero che i due vincitori siano contenti e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti vediamo qui Grazie.